Buongiorno a tutti e buongiorno soprattutto a voi ragazze. Vi volevo ringraziare per aver organizzato questa mostra d'arte così originale, ma soprattutto vi volevo ringraziare perché in un momento così difficile, dove tutti insieme stiamo vivendo un'emergenza così grave, voi avete trovato la forza di organizzare una mostra d'arte così fatta. E quando parliamo di artigianato, di arte, parliamo di un'espressione artistica che ci aiuta a trovare anche un po' chi siamo noi stessi, la strada dentro di noi e quando si riesce a trovare la strada quella che è dentro di noi, riusciamo anche a percorrere una strada migliore fuori di noi. Io penso che lo Stato debba investire tutto sui giovani, tutti sui giovani anche coloro che sono all'interno degli istituti minorili perché lì la nostra forza è lì dove la società può crescere e può creare un mondo migliore. La nostra Costituzione dice chiaramente che la pena non può essere una mera punizione, ma deve essere un percorso, un percorso rieducativo dove la pena va alle spalle, viene lasciata alle spalle e si entra in un nuovo mondo, in un nuovo percorso. Quindi io vi auguro di essere in questo percorso, di avere la forza di riuscire a realizzarlo e soprattutto di riuscire a realizzare i vostri sogni. Io spero di vedervi il prima possibile, di venire lì quando sarà passata e finita e terminata questa terribile emergenza per abbracciarvi e stringersi e passare una giornata insieme.